Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato dalla SISMEL che si intitola Tome e Boracensi Sapienze, liber primo capitoli 118 a cura di Fiorella Retucci che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego a lei Fiorella. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito, io sono davvero onorata di essere qui oggi a presentare quello che è il risultato di un lavoro decennale che però ha una storia assai più lunga, quindi mi vorrei prendere qualche minuto per contestualizzare un attimo come è avvenuta questa pubblicazione nel tempo, anche perché la storia della pubblicazione di questo volume si inserisce nella storia di una vita che è la mia, ma soprattutto si inserisce all'interno della storia di una generazione, di più generazioni. Perché? Perché l'autore e l'opera cominciano ad entrare, a venire alla ribalta, a venire all'attenzione della critica, soprattutto della medievistica filosofica intorno al 1916-1917, quindi stiamo parlando già di più di un secolo fa, quando un grandissimo studioso, un grandissimo medievista quale Martin Grabman era, definisce l'opera come il più grande esempio di un sistema di matematica fisica dell'era della alta scolastica. Potete immaginare quindi come aver presentato l'opera, aver elogiato l'opera in tal senso possa avere sicuramente suscitato l'attenzione di tutti coloro che si occupavano appunto della scolastica. L'opera però era completamente inedita, nel senso che l'opera era tramandata soltanto in tre manoscritti. Un manoscritto è attualmente conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze, due manoscritti sono conservati alla Biblioteca Apostolica Vaticana e quindi, come tutti i testi trasmessi solo in forma manoscritta, sono di difficile accesso. Per noi oggi forse è più semplice perché moltissimi manoscritti sono disponibili online, ci sono moltissimi progetti per la digitalizzazione dei fondi manoscritti delle varie biblioteche, di fatto però all'epoca era molto più difficile e anche oggi rendere accessibili queste enorme moe di manoscritti non significa rendere leggibili questi testi perché per leggere un testo per leggere un manoscritto servono delle competenze che non sono alla disposizione di tutti. Dunque già negli anni dieci, venti del novecento moltissimi intellettuali hanno cominciato ad affaccendarsi per pubblicare l'edizione critica di questo testo che era appunto ritenuto di fondamentale importanza e nel milenovecentodiciannove cominciò il prefetto della Commissione dei Quaracchi che all'epoca lavorava per la pubblicazione della Suma Fratris Alexandri, la Suma dello Pseudo Alessandro di Hales, annunciò l'imminente pubblicazione dell'edizione critica del testo, quindi stiamo parlando del milenovecentodiciannove. Purtroppo però non accadde nulla, la notizia non ebbe alcun seguito, perché? Perché l'edizione a quanto pare è già pronta per la stampa, almeno così sono riuscita a risalire tramite lo studio degli archivi, l'edizione già pronta per la stampa fu bruciata insieme a tutto il lascio del prefetto della Commissione Quaracchi durante il corso dell'ultima guerra mondiale, quindi non ebbe alcun seguito questo annuncio che era stato fatto con enorme entusiasmo. I lavori all'edizione sono proseguiti nel corso di tutto il novecento, io volevo segnalare solo due casi. C'è stato un primo tentativo negli anni 60-70, 50-60-70, di pubblicare l'edizione e critica dell'opera presso il Pontifical Institute of Medieval Studies di Toronto, dove moltissime tesi di dottorato sono state fatte con argomento proprio il Sapienza di Tommaso di York e questo è stato un primo tentativo fatto. E poi c'è stato un secondo tentativo fatto negli anni 70-90 di tutta una serie di tesi di laurea o di lavori di studenti sempre per portare alla luce, per arrivare alla pubblicazione dell'opera. Però anche qui l'opera è rimasta completamente inedita sino al 2020. Che cosa è successo e come ci sono arrivata io? Io ci sono arrivata per una strada che assolutamente non prevedeva di occuparsi di questo autore. Io nel 2007 ero nel bel bezzo delle mie tesi di dottorato che era su un Domenicano tedesco del quattordicesimo secolo. Quindi un autore completamente diverso, un ambiente culturale completamente diverso. L'autore in questione di cui appena che è stato già menzionato, Tommaso di York, è un francescano inglese del tredicesimo secolo. Io mi occupavo di un Domenicano tedesco del quattordicesimo secolo. Questo Domenicano tedesco, al più sconosciuto, faceva parte di una scuola filosofica ben definita e ben delineata che per gli addetti ai lavori è definita la scuola Domenicana tedesca. Che cos'era questa scuola Domenicana tedesca? È una scuola appunto di pensiero che nasce quando Alberto di Colonia, Alberto il Grande, nel 1248 si trasferisce a Colonia, apre, inaugura uno studium generale che era un organo di formazione diciamo paro universitaria però interna all'ordineo Domenicano e dà avvio ad una tradizione filosofica, teologica, dottrinale, culturale tedesca con delle specificità e anche una sua chiusura interna. Cosa intendo con chiusura interna? Chiusura interna deriva dal fatto, si può parlare di chiusura interna perché? Perché tutti gli autori di questa scuola si citavano tra loro. Bertoldo di Mosburg, che appunto l'ultimo, uno degli ultimi rappresentanti di questa scuola Domenicana tedesca, era stato visto sino a un certo periodo come colui, come uno degli ultimi rappresentanti e come colui che nella sua opera, che era un commento a Proclo, l'unico commento medievale a Proclo, sosteneva, portava avanti, faceva proprie le istanze della scuola come? Essenzialmente citando i suoi predecessori, che erano a sua volta tutti i Domenicani tedeschi. Però di fatto la storia non è mai, ci dà sempre, è sempre fonte di sorprese. Perché? Perché a un certo punto, lavorando con quest'autore, mi accorsi che Bertoldo di Mosburg, appunto, ripeto, Domenicano tedesco del XIV secolo, citava ampiamente a piemani dall'opera di questo francescano inglese del XIII secolo. E quindi la mia sorpresa fu grande e cominciai ad occuparmi di quest'autore. Cominciai ad occuparmi di quest'autore di cui, vi ho già detto, si occupavano a Toronto. Io ero interessatissima a quest'autore a vedere l'opera di quest'autore, a vedere le pubblicazioni relative a quest'autore e fui colta da grande sorpresa quando nel 2010 tutto il materiale d'archivio, tutti i lavori preparatori, tutto quello che era stato fatto in merito relativamente a quest'autore mi fu inviato personalmente dal marito dell'ultima studiosa che si era occupato dell'autore. Fu inviato al mio ufficio nell'università dove all'epoca lavoravo, che era l'università di Colonia, mi fu inviato tutto il materiale d'archivio per permettermi di studiare quest'autore. Ecco, diciamo come sul mio tavolo è arrivato tutto quanto e poi questo ha dato avvio alle ricerche che mi hanno occupata negli ultimi dieci anni. Perché questo testo ci ha messo tanto a vedere la luce? Sicuramente abbiamo parlato della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo parlato di vicende personali, abbiamo parlato di vicende storiche. C'è però un fatto, un fatto che ho messo molto tempo anch'io stessa a decifrare e a capire. L'opera, vi ho detto, è trasmessa in tre manoscritti, quindi sembrerebbe un lavoro a portata di mano, assai facile. In realtà così non è, perché nonostante la limitata circolazione manoscritta, i testimoni superstiti, quindi questi tre manoscritti, trasmettono un'opera che è, uno, incompleta. Perché l'autore non ha mai completato l'opera, quindi si tratta di un'opera che non è stata mai, che non ha mai visto un'ultima mano o un lavoro che rendesse l'opera un prodotto finito. E questo è già il primo problema. L'opera è caotica, l'opera ha una struttura poco chiara e soprattutto ha una struttura che muta nei tre manoscritti. Noi abbiamo tre manoscritti che ci presentano un'opera divisa in modo diverso. E ovviamente bisogna capire cosa andare a pubblicare quando si intende fare edizione in critica di un'opera di Dalfatta. In particolare c'è un manoscritto che è assolutamente degno di interesse, che è un manoscritto conservato a Firenze, nella Biblioteca Nazionale, nel fondo dei conventi soppressi, che ha due strutture differenti. Cioè si può leggere una macro struttura dando retta a quelle che sono le indicazioni del copista principale, quindi di colui che copia il manoscritto, e si ha invece una struttura completamente diversa se si dà retta alle indicazioni di una mano posteriore che corregge il testo nel margine. Quindi uno stesso manoscritto riporta un testo che ha una macro struttura, non parlo di cose piccole, ma parlo proprio di una macro struttura completamente diversa. Quindi questo aveva ovviamente tutte queste caratteristiche hanno imposto studi, studi preliminari, approfondimenti. Ed ecco perché il primo volume che è stato pubblicato, è stato pubblicato già nel 2020, proprio durante i primi mesi della pandemia, riguardava non il primo libro. Normalmente ogni pubblicazione si apre col primo libro di un'opera. Noi abbiamo ritenuto necessario iniziare con la pubblicazione del terzo libro, perché il terzo libro era proprio il caso che ci poteva dare gli elementi, era il caso di studio che ci poteva fornire gli elementi per risolvere un pochino il mistero di questa struttura così fluttuante. E appunto oggi sono molto contenta di presentarvi la pubblicazione di quello che è il primo libro dell'opera che a mio avviso è molto interessante. Anche se devo dire e devo confessare che si tratta di un'edizione critica, quindi il testo che troverete, se siete interessati all'opera, è un testo comunque scritto in latino. È un latino medievale, quindi un latino assai accessibile, che è un po' diverso, è molto più semplice del latino classico, però è comunque tutto scritto in latino. Vi ho detto, vi ho raccontato quelle che sono le fasi di gestazione di questa pubblicazione, però forse devo all'autore un po' di attenzione. Quindi vorrei presentarvi brevemente anche l'autore che è stato un personaggio di spicco all'interno dell'ordine cui apparteneva, che era appunto l'ordine francescano. Diciamo che dell'autore, come accade molto spesso per intellettuali del Medioevo, abbiamo pochissime notizie e le notizie che abbiamo ci derivano da uno scambio epistolare che l'autore intrattiene con il suo maestro, o meglio, sono le epistole del suo maestro in cui abbiamo anche dei riferimenti al nostro autore oppure proprio uno scambio epistolare tra il maestro e il nostro autore. E la biografia quindi del nostro autore può essere ricostruita attraverso queste lettere. Il maestro, con il maestro, o scritte dal maestro. Il maestro in questione è Adamo di Marsh. Adamo di Marsh è stato il primo reggente dello studium francescano di Oxford. Stiamo parlando della metà del tredicesimo secolo. Quindi primo maestro reggente dello studium francescano di Oxford e appunto maestro di Tommaso di York. Il nome di Tommaso di York compare per la prima volta in una lettera del gennaio del 1245. Da questa lettera desumiamo che Tommaso di York è un membro dell'ordine francescano che è un membro attivo perché intrattiene un costante rapporto epistolare con il maestro tramite cui riceve delle indicazioni sulla gestione di questioni interne all'ordine. Quindi è un membro attivo e da questa epistola e dalle altre, da quelle successive, si può anche comprendere la stima enorme che il maestro Adamo di Marsh aveva nei confronti dell'allievo Tommaso di York. Adamo di Marsh elogia in queste lettere, elogia più volte, le grandi capacità di Tommaso che sono appunto capacità che non riguardano solo l'acutezza di ingegno o la vastità di cultura, ma riguardano anche l'esemplarità di vita. Un altro salto, diciamo tutti i dettagli della vita e del percorso intellettuale di Tommaso di York per passare ad un dato che a mio avviso è significativo. Perché? Perché nel 1253 il maestro Adamo di Marsh propone, presenta la candidatura di Tommaso di York per il conseguimento del titolo di dottore in teologia ad Oxford. E qui cominciano a sorgere un po' di problemi. Perché? Perché per prassi l'università consegnava il grado di dottore in teologia soltanto ai candidati che fossero stati prima maestri nelle arti in una qualsivoglia università. Cosa significa? Che per diventare dottore in teologia, quindi per accedere alla facoltà che all'epoca era la facoltà di rango più elevato, era necessario sicuramente essere stato maestro nelle facoltà delle arti. Cos'è la facoltà delle arti? È la facoltà di filosofia. Attualmente potremmo dire, l'attuale facoltà di filosofia. E Tommaso di York aveva appunto questo, la carriera, il cursus honorum di Tommaso presentava appunto questo problema. Perché Tommaso non aveva mai ottenuto la qualifica di magister artium. Non era mai stato maestro nelle arti, non aveva mai esercitato la professione di maestro o professore di filosofia. E per questo la sua candidatura a dottore in teologia fu una candidatura particolarmente difficile, che fu presa in carico e fu scrutinata a lungo, dal 22 febbraio all'8 marzo del 1253, da una commissione di sette maestri. Quindi presero davvero sul serio la candidatura di Tommaso, che era una candidatura valida per le qualità, potremmo dire, scientifiche e intellettuali del candidato. D'altro canto però andava contro quella che era la prassi dell'università. Alla fine, il 14 marzo del 1253, Tommaso ottiene, diviene dottore in teologia, gli viene assegnata la cattedra di Sacris Scripturis, quindi la cattedra di teologia, però questa rappresenta davvero un'eccezione. La stessa commissione che concede la cattedra a Tommaso mette anche la regola per cui da quel momento in poi nessuno avrebbe potuto essere reggente in teologia se non essere stato prima reggente in filosofia, nelle arti. Questa è una regola che da quel momento in poi sarà sempre mantenuta, sarà una costante di quella che era la carriera accademica, diciamo, all'interno dell'Università di Oxford e all'interno dei vari studi a francescani. Quindi Tommaso di York rappresenta davvero un'eccezione perché era un personaggio dalla cultura, dalla levatura intellettuale eccezionale. Quindi nel 1253 Tommaso diventa reggente ad Oxford, rimarrà ad Oxford qualche anno, passerà poi a Cambridge dove divenne sesto maestro reggente a Cambridge e poi della sua vita non si sa più nulla. Non si sta la data di morte, non si conosce la data di morte, si presume che sia morto tra il 1259 e il 1260 perché non abbiamo più notizie sul suo conto. Quindi una morte anche abbastanza prematura che lascia ipotizzare anche un altro fatto, che l'autore sia morto quando appunto stava lavorando al suo capolavoro. Cos'è il suo capolavoro? Il suo capolavoro è appunto quello che è stato di recente pubblicato che è questo sapienziale. E cos'è questo sapienziale? Questo sapienziale è un'opera prettamente filosofica. Per un paradosso della vita, un teologo che la cui candidatura a dottore in teologia era stata abbastanza burrascosa perché non era stato filosofo, decide di scrivere una summa filosofica. E l'opera di Tommaso di York può essere appunto intesa come una metafisica sistematica, cioè è proprio un'opera puramente filosofica. Ed è una delle prime istanze medievali di investigazione puramente metafisica della totalità del reale. a partire da cosa? A partire ovviamente dal livello più alto che è quello di Dio. L'opera infatti è composta, si compone in tre parti che sono di differente lunghezza e la prima parte che è quella appunto di recente pubblicata occupa proprio la parte relativa alla teologia. Abbiamo quindi una prima parte che si occupa della teologia, una seconda parte che si occupa della ontologia, quindi dello studio dell'ente in quanto ente. E poi abbiamo una terza parte che si occupa di una parte speciale della metafisica che riguarda l'anima e il mondo. Vi ho detto che l'opera è un'opera prettamente filosofica, scritta per l'idea del destino da un teologo. E vi ho parlato però di una prima parte fortemente teologica. Questi due dati potrebbero sembrare in contraddizione ma in realtà non lo sono perché la teologia di cui Tommaso ci parla e che ci vuole presentare è una teologia razionale, è la teologia dei filosofi. È il modo in cui i filosofi sono giunti a Dio, a dimostrarne l'esistenza ma anche a comprenderne l'essenza, fino anche la Trinità, da un punto di vista puramente filosofico. E questo non perché Tommaso non si è interessato all'aspetto teologico o veda un potenziale conflitto tra l'aspetto teologico e l'aspetto filosofico. No, Tommaso come altri francescani è convinto che la fonte e la sapienza sia unica e sia appunto Dio stesso. È convinto però che la verità possa manifestarsi in due modi. Un modo autoritativo, che è appunto quello della teologia, che è quello della sacra scrittura, del commento alla sacra scrittura, e un modo razionale, che è appunto quello della filosofia. E lui è interessato al mondo della filosofia, al modo di, alla metodologia della filosofia. Quindi teologia e filosofia dicono essenzialmente la stessa cosa, la differenza è appunto nel metodo. E a lui interessa il metodo filosofico. Immaginiamo, o meglio, teniamo a mente che l'opera è stata scritta nel Medioevo, che noi immaginiamo come un'epoca caratterizzata da superstizione, da dogmatismo, da opere e da dottrine essenzialmente teologiche. Quindi ci dobbiamo forse un po' sorprendere dell'operazione culturale e dottrinale che questo autore mette in campo. Anche perché il nostro autore non ci parla assolutamente della filosofia come di un'ancella della teologia, secondo il motto che viene spesso ricordato con riferimento al Medioevo. Ma nel momento in cui descrive l'approccio per via d'autorità e l'approccio filosofico, quindi l'approccio autoritativo e l'approccio razionale, lui ci parla di un vero e proprio ranking, di una vera e propria gerarchia tra le due. Una vera e propria gerarchia in cui l'investigazione razionale, quindi l'investigazione filosofica, ha un valore molto più alto rispetto alla semplice credenza negli articoli di fede. Quindi la, per così dire, laboriosa, per usare i termini dell'autore, la laboriosa investigazio dei filosofi ha un valore molto maggiore rispetto a quello che è la semplice credenza negli articoli di fede. E per farci capire meglio cosa intende, utilizza una bellissima metafora che prende da un autore ebreo del XII secolo, che è Mosè Maimonide. Mosè Maimonide nel Dux Neutrorum usa una bellissima metafora da cui Tommaso di Dux Neutrorum attinge a pie e mani. Qual è il senso di questa metafora o di questa parabola? Mosè Maimonide, ovviamente Tommaso di Dux Neutrorum che lo segue, paragonano gli uomini ai servi che girano intorno e ruotano intorno alla vita del palazzo del re. Dice che i servi si distinguono in varie tipologie, nel senso che ci sono i servi che sono lontanissimi dal palazzo del re che addirittura non possono vederne le mura e ci sono invece servi che siedono al cospetto del re e ne vedono il volto. Ecco, Mosè Maimonide e Tommaso di Dux Neutrorum paragonano il destino dell'uomo, o meglio dell'essere umano, esattamente a quello dei servi. Ci sono uomini che rimangono molto lontani dal palazzo del re e sono coloro che appunto solo credono nei percetti della fede. Ci sono invece uomini che riescono a vedere il re faccia a faccia, riescono a vedere il volto del re. E chi sono questi? Sono coloro che sono perfetti nelle scienze filosofiche. Quindi gli uomini che riescono ad avere pieno accesso al volto del re, che in questo caso fuori di metafora è essenzialmente Dio, sono coloro che sono perfetti nelle scienze filosofiche. Quindi Tommaso di York si spinge molto avanti nel dire che l'investigazione razionale che i filosofi mettono in campo riesce a portare i filosofi stessi ad una diretta visione di Dio. E questa è un'affermazione molto forte che lui ribadisce in più occasioni. E questo è molto particolare perché equivale a dire che non c'è alcuna necessità di un gratuito intervento divino nella vita umana. Perché? Perché l'essere umano ha al suo interno già tutte le caratteristiche per accedere alla diretta visione di Dio. E la diretta visione di Dio non è altro se non anche la felicità per l'uomo. E quindi questo equivale a dire che l'uomo, l'essere umano, ha tutte le facoltà, tutti gli strumenti per accedere alla propria, alla sua propria felicità. Questa è una dottrina molto forte che verrà poi anche condannata in una celebre condanna del 1277, nella celebre condanna del 1277, ma che Tommaso in qualche modo veicola. Veicola come? Veicola sulla scorta, ancora una volta, di una lunghissima citazione da un altro autore, che è un autore arabo, che è Averroè, è unica citazione, è un unicum all'interno del Medioevo, la citazione così lunga di questo passo. In questo passo Tommaso di York citando Averroè ci dice cosa? Ci dice che la felicità, la nostra felicità è tutta nelle nostre mani, ci dice che la perfezione del genere, dell'essere umano è tutta nelle mani dell'uomo e passa esclusivamente per lo studio e per la perfezione, l'acquisizione della perfezione nelle scienze filosofiche. È un motivo che ritornerà poi anche nel Rinascimento, che però comincio a vedere già nel Medioevo un accenno, un accenno importante soprattutto se pensiamo che viene da un francescano inglese del XIII secolo. Io avrei tante cose, tante altre cose da dirvi, però forse non voglio abusare della vostra pazienza e quindi vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. L'argomento è tutt'altro che semplice perché richiede profonde conoscenze in diversi campi che vanno appunto dallo studio dei manoscritti alla filosofia, alla storia dei francescani in Inghilterra, alla storia dei domenicani in Germania, quindi è davvero un'opera interessante e da consigliare per chiunque abbia voglia di approcciare questi argomenti, quindi sono io che ringrazio lei per avercela presentata, per avercene parlato. Effettivamente, se posso prendermi solo 30 secondi per ribadire, per replicare, scusi, ha ragione, lavori del genere hanno bisogno di, coinvolgono moltissime competenze. Io nasco filosofa, o meglio storica della filosofia, con studi in filosofia e ho dovuto acquisire tante competenze dalla codicologia, alla pellografia, alla critica del testo, ovviamente alla storia che comunque è sempre presente sullo sfondo. Però se posso dire, ne vale la pena. Ne vale la pena non per soddisfare quella che è una curiosità erudita, che può essere personale e non condivisibile. Ne vale la pena perché solo mettendo le mani nella pasta e andando a lavorare di prima mano contesti che nessuno ha mai letto, si può veramente arrivare a definire un contesto storico e capire le dinamiche di un periodo storico. Del Medioevo noi abbiamo veramente pochissimi documenti che sono fruibili, abbiamo moltissimo materiale che ancora rimane chiuso nelle biblioteche e tramandato solo in forma manoscritta. Questo cosa significa? Significa che la nostra conoscenza del Medioevo è veramente ancora limitata, perché tutto il materiale è appunto ancora inedito. E rendere disponibile al grande pubblico, anche se non a larghissimo pubblico, perché come vi ho detto l'opera è in latino, quindi è ovviamente indirizzato ad un pubblico che almeno conosce il latino. Però è un primo passo sicuramente per aprire una porticina un po' più grande verso un mondo che a noi rimane per larga parte sconosciuto, proprio perché è ancora inedito. Quindi assolutamente è un lavoro che secondo me merita di essere fatto, nonostante le difficoltà che possa implicare. E anche proprio per sfatare tanti miti sul Medioevo come luogo buio, oscuro, barbaro e chi più ne ha più ne metta, come viene continuamente rappresentato. Magari ci fosse lancio una provocazione. Noi spesso quando vogliamo connotare in maniera dispregiativa una cosa diciamo che è medievale, beh essendo molto provocativa in quello che dico, provocatori in quello che dico, dico invece che magari si fosse, si avesse la lucidità medievale e la concezione dell'uomo che i medievali avevano è veramente un grosso fraintendimento e io mi auguro di cuore che il lavoro che io conduco, ma soprattutto il lavoro che voi fate, che di divulgazione scientifica, possa davvero sfatare questi miti e possa farci vedere con occhi vergine privi di pregiudizio ad un'epoca che è assolutamente interessantissima. Magnifico, è la degna conclusione di questa videopresentazione, quindi io invito tutti a comprare questo saggio di cui ricordo il titolo, Tome Erboracensi Sapienzale, liber capitolo primo 18, pubblicato da Sismel da pochissimo, a cura di Fiorella Retucci, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite, che io ringrazio davvero tanto per questa presentazione. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.